Sono Duccio Locati, osteopata, istruttore certificato di Psyche e direttore del corso Salute e benessere di Psyche, del quale parlerò in questo video. Questo corso si svolge su quattro giorni e i punti chiave sono i seguenti. Imparerai a collaborare col tuo dottore interiore, il tuo miglior alleato per raggiungere e mantenere un perfetto stato di benessere. Imparerai e farai esperienza del bilanciamento della salute ottimale, nel quale sarai in grado di integrare 22 delle credenze fondamentali che le persone più longeve in salute al mondo hanno. Grazie al bilanciamento del legame con la vita alternativa sarai in grado di riprogrammare il tuo subconscio su uno stato di salute e benessere costante riguardo a situazioni estremamente specifiche. Imparerai poi a gestire una situazione legata alla salute utilizzando Psyche dall'inizio alla fine, imparando quanto è importante il tuo ruolo di facilitatore in questo. Imparerai a trasformare traumi o stress anche vecchi di anni che spesso sono all'origine di condizioni o malattie. Imparerai una struttura precisa per capire se la malattia o la condizionano dei messaggi per te in modo da poterli bilanciare affinché la condizione non abbia più bisogno di esistere. Imparerai come utilizzare Psyche in caso di pronto soccorso, un nuovo concetto di prevenzione e molto altro.